Ella YQ, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction da Napoli-Ruma, partita fondamentale perché la YQ ha perso, vabbè la YQ ormai, il Milan ha perso, gli altri hanno vinto quindi dobbiamo allungarci sulle altre, la Roma se vince diventa seconda quindi allunghiamoci, noi ci vediamo con la partita, speriamo di vincere. Grazie a tutti. 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 Mamma mia. 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 Svegliato il secondo tempo, cosa sarà? Bravo Beretta, attenzio! Bravo Beretta! Bravo Beretta, attenzio! Bravo Beretta! Bravo Beretta! Che ha parato, che ha parato, però non so se ha fatto bene. Speriamo che fuori gioco. Bravo Beretta! 2. 2. 0. 2. 3. 2. 1. 1. E' stato un giro! 1. 1! 1! 1! 2! 2! Già! 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 Gi Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Sai, me, me, me! Mi fate il corazzo! Ho visto grande rabo! Ho visto grande rabo! E' mamma, mi ha mandato su, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, salve che fate il coraggio, vuoi che sono grande nado, chi non sei so. Sì, fammi ha mandato su, mamma, ieri sono grande, chi non sei so. Sì, fammi ha mandato su, mamma, ho scopo le, abbiamo fatto l'energia. Sì, fammi ha mandato su, mamma, ho scopo le, abbiamo già dato da parte dell'interno di giocatore, Grazie a tutti.